Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Abbiamo un avviso dell'ultima ora, ovvero che le date del pagamento anticipato delle pensioni di maggio sono mutate. Infatti è arrivato un avviso dell'Inps nelle ultime ore. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Come abbiamo spiegato nel nostro video di ieri, anche per il mese di maggio, vige la regola dell'anticipazione dell'assegno pensionistico. Infatti attraverso l'ordinanza numero 740 del 12 febbraio 2021, firmata dall'ex capo della protezione civile Angelo Borrelli, è stato predisposto l'anticipo del pagamento Inps per i trattamenti pensionistici per i tre mesi di marzo, aprile e maggio. Ebbene, ieri avevamo dato un calendario che era stato confermato anche nelle precedenti settimane, che vedeva il pagamento delle pensioni anticipato di maggio partire il 26 aprile 2021 e concludersi il primo maggio 2021. Ebbene, l'Inps nelle ultime ore ha rilasciato invece il calendario ufficiale, comprimendo ancora di più le date per quelle che saranno il pagamento anticipato delle pensioni di maggio per coloro che ritireranno la pensione imposta. Vediamo dunque il calendario ufficiale mutato dall'Inps nelle scorse ore. Lettere dalla A alla C il 26 aprile, lettere dalla D alla G il 27 aprile, lettere dalla H alla M il 28 aprile, lettere dalla N alla R il 29 aprile e lettere dalla S alla Z il 30 aprile. Infine, per i pensionati che hanno scelto come modalità di pagamento l'accredito sul proprio conto corrente, la data prevista per l'invio dell'assegno è il 3 maggio, ovvero il primo giorno bancabile del mese. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!